bello a tutti ragazzi sono anchisius e io sono alex e oggi ripetiamo con slenderwood e niente eravamo arrivati in questa casa dove c'è questo tizio qua a destra che è molto bello e si chiama a mettiamo questa porta andiamo qua si la porta per i sotterranei è chiusa ma io non c'è qua ha un orologio ah si può anche qui ah non ha non ha lancette è appunto strano bello 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 fortunatamente è l'ultima gente mette fratello dello slender ma che bel bambino e vecchio da piccolo si si brutto è rimasto a mano in un'estanza buio bello che c'è un disco ma che scherzo è e gollum aspetta è collo una gallina che provo a partire qua questo spero che non sia stanze dove ci sia lo slender no corridoio lunghissimo che già sono brutti corridoio cos'è che ragazzi il ricordo di seven days è proprio un diario ah no ah no ho trovato la lancetta che cazzo non voglio ciao dino bello un armadio basta questo non si può leggere tutto qua e perchè non freglie uno da qua freglie uno da qua c'è un orologio va bene vediamoci ma tra l'altro hai visto che la porta ha contornato in un altro ok qua ci sono due che stanno facendo i loro bisogni e non voglio sapere lasciamoli fare bello cos'è stato quel suono che suoni sentito questa è una finestra un'altra l'hai presa? cazzo la fina eh no 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 slenderman vandolo slenderman vandolo ok ci manca una porta che ha rotto questa non va bene ha rotto quella cosa ha rotto? quella avere una porta no la finestra adesso corri adesso siamo fottuti direi si perchè abbiamo lo slenderman in casa che oltretutto è un vandolo oltretutto c'è un bambino brutti e adesso dovremmo andare mettendo le lancette e ho paura che faccio adesso? cazzo cazzo qualcosa si sbocca ah c'era una nota mettete in base se non dovete leggere bene bene io me ne andrei da questa porta aspetta 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 la nota riguardava un ragazzo ah mettendo le lancette la mia testa che cavolo sta succedendo mi sta succedendo si certo mettendo le lancette quella creatura sta facendo del male alla mia testa ma la cosa più furba quando fanno i giochi a slenderman cos'è sta merda? non c'è niente di qua no andiamo di qua, andiamo di qua di qua di qua non fa paura e ma quanti cazze di 10 sono? cos'era cos'era quello? Niente, niente Ah, una pina, una pina Una pina, una pina Le pia servono sempre Ah, una goccia Ah, ma c'è più d'acqua qua Merda, merda Cosa? Cos'era un cosa? La scritta iranico era niente, non si può fare No, di là forse è una pia C'è qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcuno Una tomba Oh, prendilo Prendi questa merda Ho preso un martello per Per fare quella roba lì Qua c'è un muro, perfetto No, no, no Perfetto No, no Corri, corri, corri Adesso andiamo dall'altra parte Cazzo andiamo di qua, vai su, vai su Non andiamo di qua Oh, grazie Dio, grazie Dio Fermi, era assunto quella struttura Vuoi ritornare su Per vedere bene dall'altra parte? Si eh Io mi renderei Dove cavolo siamo? Sempre in quella casa qua con i nenetti Sud Si, solo che ci sono i cosi E qua stiamo andando nord però Non me ne frega Qualsiasi parte è meglio di questo po' Bisogna seguire la strada Una macchina Non lo so Non lo so Ti fa piacere che abbiamo trovato una macchina? Ho trovato una pila Noi troviamo pila così in giro Su scatole su per terra Non lo so Oh, merda Oh, merda Perda Sono morto No basta Ho perso 10 anni di vita L'ho fatto sbaventare in canna Cioè abbiamo fatto solo 5 minuti di gioco ma si può Ok, ok si riprendo No, ho un tasto sbagliato No, non ce la posso fare Proviamo ad andare asciutto come dicevo io Eh si, dobbiamo girare Però corri, devi correre Ma sto pizzo qua si stanca se corri È un coglione, è un obeso, non lo so cos'è Però si stanca Ho paura, ho molta paura Le panchine, le panchine, le panchine No, 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 dobbiamo andare qua, me lo ricordo Sì sì, dobbiamo andare qua Oh cos'è, è il cancello, no cos'è Cancello, credo sia quello però Prova a girarci intorno Sì 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 Se non ci ammazza prima No, no, no Niente, non ci ha fatti Sì sì, sì ti amo, ti amo Io ti amo, io ti amo, entra in qualche futuro AHHHHH Ma perché sei qua? Perché sei qua? Come hai fatto? Poi anche se riusciamo a entrare, se viene davanti lì, come facciamo? Eh questo che non capisco Semplice, non ci può Allora non ci andiamo Dio, forse l'abbiamo trovato Dai Dio, dai Dio Dai Dio Dai Dio No Dio Dai Dio In questi momenti sempre troppo, si qua c'è la troppo Cosa? Che girare intorno Come abbiamo fatto? C'è scritto di qua No, Matthew Mansion No, Matthew Mansion è quella la, sembra una merda di Oddio, ho visto una cosa brutta L'ombra è brutta Cosa è questa? Ma questa è la Matthew Mansion Ma perché se qua la Matthew Mansion? No C'è niente prevedibile adesso, lo sai vero? Ok ragazzi, purtroppo ci sono cancellati un attimo i dati di Fraps Perché aveva finito, non so perché perché è un coglione Quindi Quindi niente Speriamo nel prossimo video di finire questa merda Non ce la faccio Non ce la faccio Se il video vi è piaciuto lasciate un commento Mi piace E iscrivetevi E ci vediamo in prossimo video Bello ragazzi Lui ci sono la star force Sarei tanto tanto contento Ma... Aia Aia Hai rotto le scatole Aia Li sto ammazzando